Il riso a medicina venne coltivato nell'azienda del conte Ercolani a titolo sperimentale nella primavera del 1757. Era a quell'epoca una cultura poco conosciuta in tutta la provincia di Bologna. Io lascio la risaia e torno a casa mia. Mamma e papà. Roncatura che è poi la monta. Per donne e ragazze idonei, orario ore 8 di lavoro effettivo. Facoltà al datore di lavoro di prolungarlo a 9 ore. Prezzo per le prime 8 ore lire 1,30. Prendevano una lire 30 centesima al giorno. Per l'ora successiva lire 0,20 con vinello. Si cantavano anche delle canzoni allegrine che facevano anche ridere. Perché insomma una miseria nera, una vita di miseria, tanti figli e poche soddisfazioni. Almeno una soddisfazione si poteva togliere cantando. La disolla che è la più anziana del gruppo mi diceva Beh ma lire la nostra educación sensuelle la risera. E quindi non è che c'erano tante opportunità di scambiarsi opinioni e notizie con le persone. Si faceva sul luogo di lavoro in risaia a mollo. Sotto la mia sottana c'è posto un bel boschetto Alza la gamba e fammela vedere Alletta giovanotto Te la farò vedere Te la farò vedere Te la farò sentire Alza la gamba e fammela vedere Io ti farò morire Dalla soddisfazione Te la farò Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.